Allora, siamo Nicole, Cercine e Ameni. Io ero la guida con loro due giorni. Cosa volete dire? Allora, ci siamo trovati benissimo con Ameni. Abbiamo fatto due giorni in giro per il Cairo, abbiamo visto tutte le piramidi, abbiamo visto il mercato antico. Ameni è stata una guida fantastica. Grazie, grazie. Grazie. Ve la consigliamo, assolutamente. Grazie. E qui c'è il mercato. Ricordate il nome del mercato? Ricordate il nome del mercato? Il mercato più antico. E' uno dei mercati più antichi. Della strada più antica del Cairo. Di 700 anni fa. Andate un po' adesso. Si chiama il mercato di Han el Khalili. Han el Khalili. No, lo pronunce. Han el Khalili. Han el Khalili. Han el Khalili. Riccina, cosa ti è piaciuto di più? Le piramidi, quelle con i disegni dentro, di Sacra. Onest. Onest. La piramide Onest. Onest. A me è piaciuto il complesso di Sacara. Anche a me mi piace. Sì, bellissime. Ve le consiglio. E Ameni è la guida migliore che potete trovare. Grazie caro amico. È vero. È vero. È vero. È vero. Grazie. Grazie tanto. Ti è piaciuto il falafel, il gochari? Grazie. Quale ti è piaciuto di più? Falafel. A me è il cloceri, quello di oggi. Ok. Per me mi piacciono tutti i due. Ok, spero di vedere un'altra volta di tutto. Perché noi, speriamo davvero. E tu in Italia. Ok. Vengo una volta.